La nuova legge europea sul divieto all'utilizzo delle plastiche in monouso entro il 2021, il cosiddetto marine litter, l'abbandono rifiuti in mare, prevede che ogni stato membro dovrà recepire questa legge e dovrà adottare tutte quelle misure necessarie sia alla sostituzione di certi materiali, sia alla riduzione del loro consumo sia al riciclo. Permettetemi di darvi qualche dato del totale rifiuti marini che vengono abbandonati, il 43% deriva da queste plastiche monouso, un altro 27% deriva dai cosiddetti fishing gear in plastica, le cosiddette rete dei pescatori. La somma di queste due famiglie di materiali costituisce il 70% dei rifiuti marini che poi troviamo nelle nostre spiagge ed è su questi materiali che la nuova legge si si basa. Per cui cosa prevede questa legge? Prevede la sostituzione dove ci sono dei materiali sostenibili tipo biopolimeri o derivati della cellulosa eccetera, di alcuni manufatti tipo i cotton fioc e tutte le coltellerie posate, cannucce per bibite, stick per palloncini. Per questi materiali è prevista la sostituzione già da ora ma entro il 2021 obbligatoria. Per altri materiali tipo food container, cup for beverage, eccetera, dove non esistono al momento dei validi sostituti, anche perché questi devono avere caratteristiche particolari per il cibo, per evitare l'entrata dell'ossigeno e quindi permettere la durata più a lungo del cibo. Per questi materiali dicevo è prevista una significativa riduzione di consumi e questo implicherà un altro cambiamento nello stile di vita. Peraltro i produttori di questi materiali dovranno provvedere anche loro al costo della raccolta, del riciclo e della pubblicità per aumentare la cosiddetta consapevolezza di tutti i cittadini su questi problemi. Per le bottiglie c'è una cosa ancora un po' più complicata per cui se mi permettete vi leggo il dettaglio di questa legge. Secondo la nuova direttiva per quanto riguarda le bottiglie di plastica si dovrà riciclare almeno il 90% entro il 2029 con un target intermedio dal 77% al 2025. Nel testo si introduce anche l'obbligo a partire dal 2024 di avere il tappo attaccato alla bottiglia per evitare che venga disperso. Viene introdotto inoltre un contenuto minimo di materiale riciclato almeno il 25% entro il 2025 e il 30% entro il 2030 in modo da favorire anche la raccolta e riciclo di questi materiali essendoci l'obbligo di inserirli. C'è un altro aspetto molto importante, la direttiva prevede che per gli attrezzi in pesca gli stati membri devono definire dei target nazionali di raccolta ed adottare dei piani di monitoraggio per verificarne il raggiungimento degli obiettivi. Per i prodotti monouso per i quali non esistono alternative, quelli che dicevo prima, gli stati membri dovranno mettere a punto piani nazionali con misure dettagliate per ridurre significativamente il loro utilizzo da trasmettere alla Commissione europea entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legge. Per cui come vedete questa nuova direttiva non è che abolisca tutti questi materiali ma è un po' graduale, per certi prevede la sostituzione entro due anni, peraltro un graduale diminuzione, costi aggiuntivi per chi li produce in modo da sostenere tutta la catena della raccolta e del riciclo e per altri prevede proprio una una tassa tra virgolette e soprattutto per le reti da pesca è interessante perché cosa fanno i pescatori oggi che raccogliono queste reti esauste che trovano in mare, le ributtano in mare perché costa molto poterle poi portare a riva e non si sa neanche a chi, nemmeno a chi consegnarle per cui le ributtano in mare. Andiamo a vedere quali sono questi materiali alternativi o meglio sostenibili che andranno a sostituire questi materiali con cui vengono attualmente utili prodotti piattini eccetera che è il polistirene. I materiali alternativi non ce ne sono tantissimi a livello industriale, ci sono il famoso Mater B, c'è l'acido polilattico, ci sono un po' di altre miscele di amidi e così via. Peraltro la quantità di questi materiali prodotti attualmente al mondo è meno dell'1% di tutte le plastiche prodotte e quindi sono ancora in quantità relativamente limitata. Comunque il concetto è un po' più delicato nel senso che non è che perché noi sostituiamo dei materiali di origine fossile con dei materiali da fonti rinnovabili possiamo poi pensare di gettarli in mare o gettarli per terra eccetera che questi spariscono perché la cosa non funziona così, anzi faremmo peggio perché questi materiali si degradano in maniera un po' più veloce rispetto agli altri ma poi rimangono sotto forma di pezzi, coriandoli e quindi inquinerebbero ancora di più. Per cui è fondamentale che il legislatore nell'acquisire questa legge prenda in considerazione anche tutto il sistema di raccolta e di smaltimento di queste bioplastiche che la loro fine naturale dovrebbe essere il compostaggio. È ovvio però che questo va messo, va organizzato perché se queste plastiche finiscono, bioplastiche scusate, finiscono nelle plastiche normale rovinano anche quelle perché hanno caratteristiche completamente diverse. Quindi il concetto che deve essere chiaro è che il termine bioplastica o compostabile non vuol dire che io posso buttarla dove voglio ma richiede la messa appunto appunto di un sistema di selezione e di raccolta e di smaltimento specifico che dovrà essere progettato. Un ultimo aspetto molto importante che la legge prevede è che i produttori di queste materie materiali dovrebbero contribuire ai costi per aumentare la consapevolezza da parte dei cittadini sulle problematiche o su un non corretto smaltimento di questi materiali possono provocare sull'ambiente e inoltre prevede che siano molto più chiare le etichettature di questi materiali in modo che il cittadino possa facilmente capire dove questi materiali devono finire alla fine della loro vita. E' ovvio che tutto questo comporterà un notevole cambiamento nei nostri stili di vita dove il concetto della riduzione dell'utilizzo di questi materiali monoconsumo dovrà entrare in tutti noi.